Pensazioni bellissime perché è una società una tra le più importanti in questa Serie C. Sono qua da poco ma comunque non ci manca niente, la società non ci fa mancare niente. Ora sta a noi dimostrare il nostro valore, dimostrare che siamo comunque tra le favorite e dobbiamo cercare di fare qualcosina in più. Di sicuro l'obiettivo è di vincere domenica e pensare partita per partita e poi ovviamente il nostro obiettivo, quello della società, è quello di arrivare tra le prime quattro e faremo di tutto per raggiungerlo. Non manca nulla, ho scelto questo, ci ho messo due giorni con il direttore a fare questa scelta, ho cercato di chiudere tutto subito perché me ne hanno sempre parlato bene e in effetti venendo qua ho capito cosa significa indossare questa maglia e ho capito cosa vuole la società fin da subito e come ho detto cercherò di fare di tutto sia io che i miei compagni per raggiungere gli obiettivi fissati.